La prima è su Icardi Il dito medio, ho fatto il dito medio a 8-9 tifosi che mi insultavano a morte No, lo chiedo a lei No, l'ho fatto, l'ho fatto, io quando faccio una cosa la dico Quindi ho fatto il dito medio mentre uscivo perché ho preso degli insulti E quelli non potevano essere lì perché dovevano esserci gli studenti a tenerli dietro Quindi non devo essere lì a insultare e a dirmi tutte le parole Quindi in un momento così l'ho fatto, contenta? No, io gliel'ho chiesto Allora, se mi devi fare delle domande per fare polemica facciamo Io ho detto, ho risposto No, ma scusi, siccome c'è una cosa che gira su tutti i social è giusto anche chiedere Ho detto che lo faccio, ho detto che l'ho fatto, scusi, gli ho detto che l'ho fatto Cosa ho detto? Va bene, ok, volevo solo un'altra Ecco allora, basta, ho detto che l'ho fatto, fine del discorso Va bene, ok Ecco Ok Grazie Grazie, grazie per essere stato con noi Eh, gli cagate Va bene Subito, cioè non andare direttamente alla difesa 5 Ma di capire come sporcare la linea di passaggio tra Carvacal e appunto Yamal E deve essere bravo, secondo me, anche Calafiori Visto che noi abbiamo tre centrali a slittare velocemente sulla sinistra Prima che stoppi palle e punti verso l'interno Yamal Perché tanto noi rimaniamo due contro uno con Morata Ecco perché secondo me dobbiamo essere bravi ad alternare sia la marcatura che anche la scalata con il centrale E ora invece siate bravi ad andare a dormire E l'esterno tutta fascia Siate bravi ora, Lele e Alessandro, ad andare a dormire E non andare a fare i pazzi Sì, volevo finire lo discorso Nelle notte di Gelsenkirchen Voleva finire Lele Fai finire Lele No, 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 va bene, va bene, andiamo a dormire No, 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 ma andiamo a dormire che ne abbiamo anche bisogno Ma andiamo a Iserlo E' la stessa cosa, ragazzi, anche dall'altra parte Ok, con Di Lorenzo e Chiesa Buonanotte Buonanotte ragazzi Ciao ragazzi Buonasera E Mialovic che scuoteva la testa Soprattutto in una delle ultime occasioni Quelle in cui Maxi Lopez e Belotti si sono ostacolati La palla praticamente sembrava già dentro Quarto miglior attacco della Serie A E oggi siete mancati proprio lì Forse non è mancato il cismo perché l'occasione ne avete avute tante No, no, ma voglio chiedere a Massimo Che partita ha visto? Visto che ho sentito il spogliattoio che diceva che Tutte e due squadre, diciamo, hanno meritato Di vincere una cosa del genere Che noi praticamente Loro hanno fatto due tiri in porta Noi abbiamo fatto 25 tiri in porta Poi ci può stare anche pareggio e tutto Però No, no, abbiamo detto che Probabilmente ho sentito solo un pezzo Perché il resto abbiamo detto che il Torino ha tirato tantissime volte in porta Infatti il resto Sì, sì, ma abbiamo detto Ma molto dopo Abbiamo anche detto che il Torino Abbiamo analizzato poi tutti i tiri del Torino Non mi sembra che abbiamo detto che la Sampdoria meritasse E che il Torino abbia giocato una brutta partita No, no, ma Torino Torino sicuramente non ha giocato una brutta partita E sicuramente per quello che si è visto in campo Ha meritato di vincere Poi è uscito un pareggio E complimenti alla Sampdoria Però non mi puoi dire che tutte e due squadre hanno Noi abbiamo detto che nel primo tempo La Sampdoria fino a quando c'era Schick Un po' di problemi ve li ha creati Ok, ha fatto due tiri in porta Ha fatto due tiri in porta Ho detto che nel secondo tempo Ma anche primo tempo Anche primo tempo Hanno fatto due tiri in porta Sì, ti ripeto che non abbiamo detto Che la Sampdoria ha giocato molto meglio del Torino No, no, ma ci mancherebbe Abbiamo semplicemente detto che Abbiamo analizzato per un quarto d'ora Per un quarto d'ora E questo probabilmente era anche quello che ti volevo chiedere Abbiamo analizzato per un quarto d'ora Perché il Torino che ha tirato 20 volte in porta Non era riuscito a segnare 25 volte in porta Perché ce l'abbiamo segnati tutti E volevo sapere da te qual era il motivo Per cui il Torino ha tirato tante volte in porta Non mi sembra che abbiamo detto Che la Sampdoria abbia giocato meglio Mi dispiace che tu abbia sentito Abbia sentito questo O che fra le due squadre Ce ne fosse una Che meritava molto più dell'altra Di vincere Ecco, così è giusto Io prima ho detto Che ti posso rimproverare Obiettivamente poco Se anche tutto l'anno Criticato Ho detto quello che penso Ma non per criticare Per dire la verità Io stasera Se mai mi sono potuto rendere conto Della pochezza Della qualità Della tua rosa Mi sono reso questa sera Quindi Questo può essere Un'apologia per te Però Vedere la partita Così in positivo È veramente difficile Cioè Non so Chi sia Allora Nella scuola Per noi Magari te Però Credimi Quando la rivedrai Credo che cambierai idea Ma forse Mi ha visto la vista come me Visto che a fine primo tempo Ho cambiato l'interprete in campo Si vede che se lo soffrendo Si stava giocando Avete fatto meglio voi In primo tempo Avete fatto meglio Discrittamente meglio Ma ora sono stati scarsissimi In primo tempo In secondo tempo Quando siamo meno Si scarsi gli altri Sempre così Ma ma dai Va beh Dai Non c'è problema Guarda Ma Ok Avete fatto Guarda Un gioco meraviglioso Straordinario Irripetibile Unico Quando Leone va via Gatti si avvicinano Quando Leone torna Gatti spariscono E' così Poi tutto quello in giro Che si parla Il livello è troppo basso Mi sto concentrando sul lavoro Lavoro E io via Per qualche giorno Per motivi personali Però sono sempre presente Dal primo giorno che sono entrato Sono presente E se lavora Se pedala Fede E altra cosa Cosa è? Rolo? No 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 Si Margaret lo vorrà chiedere Forse anche Zorobob Rolo è semplice Perché tanti parlano Comando io Sono io il boss E tutti i resti Lavorano per me Direi che senza alcun dubbio Fede E c'è Zvone Boban È sempre bellissimo Rivederti Grande Grande Zlatan Emozione Pure Boban Non ha capito il mio ruolo Cosa? Cosa? Pure Boban Non ha capito il mio ruolo No ma nessuno No ma nessuno l'ha capito Per la verità Io spero che l'abbia capito tu E ti spiego adesso Comando io Sono io il boss E tutti lavorano per me Perché nessuno ha capito Né competenze Né responsabilità Né dove arriva La tua direzione Nella parte tecnica Se lavora in silenzio Se scegli il datore Ma adesso abbiamo sentito Che sei un boss E quindi abbiamo capito Meno male tutto Grazie per averlo chiarito Grazie Grazie Abbiamo sentito l'Atalanta Lamentare insomma Una decisione arbitrale Che ha obiettivamente Favorito la Lazio però Posso dire la cosa Quando vince la Lazio È sempre favorita no? Quando perde Non è sempre invece Questo non lo dico a noi Eh no ma questo lo dico a voi Perché voi dite sempre queste cose Eh no Cioè i meriti per voi non esistono Noi abbiamo riportato Quello che ha detto L'allenatore dell'Atalanta Presidente Lodito Su adesso Mi perdoni Se vuole fare polemica La facciamo Ma io non sto facendo polemica Io sto dicendo solamente Adesso per ritornare Con i piedi per terra Perché il nostro Gioco si basa con i piedi Il nostro strumento di lavoro La partita Chi l'ha vista Penso che abbia capito Che forse che la Lazio Qualcosa ha meritato Abbia meritato E che questo nessuno L'ha legato E allora a quel punto Dopo i meriti Scusi mi perdoni Allora a quel punto Se c'è il merito Se la vittoria è meritata Sì Allora non facciamo polemiche Su cose sterili Che non hanno sentito Però il gol che ha sbloccato La partita è stato un gol Che insomma in qualche modo È stato contestato Ma lo sapete Nella vita uno può contestare Scusi mi perdoni Allora il regolamento è chiaro Prevede delle cose Ora si tratta di capire Se è volontario o volontario Questo è stato il problema Quindi secondo lei È una decisione giusta Quella dell'arbitro? Da regolamento È una decisione giusta Ok Allora le potrei dire Che prima c'era un rigore Che non è stato dato No no ma io prendo atto Di quello che le dice E quindi nessuno pone il problema Quindi c'era un rigore Che non è stato dato Un rigore netto Che non è stato dato Eppure nessuno ha discusso Cioè questo Ma noi non ci siamo neanche lamentati Presidente Notito Le faccio un'ultima domanda Ma mi deve promettere Di rispondere rapidissimamente Perché abbiamo Omaran che ci sta aspettando E ho capito però Scusi Variale Lei mi fa Un'intervista Come di In conference goal Cominciamo male Scusi E mancazza Adesso io Io le chiedo La risposta breve Io le chiedo Io faccio il presidente Non faccio il dipendente Allora se faccio il presidente Devo essere trattato da presidente Le faccio Allora io Normalmente i giocatori Sono dipendenti Allora bene Che lei La vostra volta Vuole fare una conference goal La faccio col mio modo Presidente Vabbè Putta e basta Presidente le faccio una domanda Da presidente Però veramente Non le fa No perché ci sono delle regole Che lei deve conoscere Le deve rispettare Guardi le volevo chiedere questo Lei è stato dipinto come Il vincitore dell'ultima battaglia In Lega Calcio Per la mancata elezione Diciamo di quello Che era il candidato Che era arrivato con più voti Rispetto alla precedente Riunione Venerdì si fa il presidente Della Lega Calcio Considerando che domani Si elegge il presidente Della Feder Calcio E non ci sarà un presidente Della Lega Ma guardi questo Lo deve dire anche I miei colleghi Perché io ho un voto Io chiedo a lei Da presidente Le chiedo il suo parere Sono vecchie persone che votano Io penso che Ci siano le condizioni Per ricreare Diciamo così Un clima completamente diverso Di ripartenza della Lega All'insegna Di alcuni principi Innanzitutto che i presidenti Devono riacquisire La paternità delle scelte Attraverso Un ruolo attivo Ossia attraverso Dei poteri Che vengono conferiti Al Consiglio A quale devono partecipare I presidenti E poi chiaramente Una ristrutturazione a Lega Quindi è ottimista Però per venerdì o no? Ma no io non so Io sono ottimista Io sono ottimista Nel senso di responsabilità Dei presidenti Che sicuramente hanno a cuore Le sorti del calcio E quindi anche della Lega Calcio E quindi troveranno Come hanno sempre fatto Anche in passato Cercheranno di trovare Le soluzioni Per risolvere i problemi E credete Credete Forse se qualcuno Avesse evitato Di creare spaccature Probabilmente Mi riferisco non ai miei colleghi Ma a qualcuno che Pensava che dall'esterno Potesse venire a dettare le regole Comunque Ad Abodi Lo dica Lo dica Ma io non ho questo Lo sta dicendo lei No erano due candidati Noi penso che Le ripetizioni Siccome io non ho fatto Le scuole serali Ho fatto quelle vere Le scuole serali Sono state usate tanto In questa settimana Non è mai troppo tardi C'era il maestro Manzo Non è mai troppo tardi L'aspetto magari in settimana 90 minuti L'alfabetizzazione è già caduta Mi perdoni Mi perdoni Dobbiamo ripartire Con una logica diversa Mi auguro che questa logica Ci porti poi Alla soluzione dei problemi Va bene Grazie Grazie al presidente Lodito Grazie a tutti